Buongiorno Marina, buongiorno ai telespettatori di Reteotto. Sì, hai detto bene, c'è la preoccupazione da parte delle famiglie che sono state sgomberate, lo ricorderete, nel febbraio scorso dalla casa parcheggio di Via Garibaldi qui a Lanciano per motivi di sicurezza per quanto riguarda il tetto. C'è una novità, c'è stato un incontro questa mattina in Comune a cui hanno partecipato gli inquilini, a cui hanno partecipato anche i sindacati, naturalmente il sindaco Pupillo e il vice sindaco. C'è da dire che la convenzione con gli hotel dove ora risiedono scade domani, ma è stata prorogata di una settimana. Qui, come vedete dalle immagini di Andrea Berardinelli, però non siamo in Via Garibaldi, bensì nel quartiere Santa Rita, perché in queste case Ater dovrebbero trovare alloggio gli abitanti che al momento non possono rientrare nella casa parcheggio di Via Garibaldi, perché lì il Comune sta facendo dei lavori. Allora, vicino a me ho Marco Iasci, delegato Asia USB Abruzzo, associazione inquilini e abitanti. Le chiedo innanzitutto come è andato l'incontro di oggi. L'incontro di oggi è andato benino, nel senso che eravamo di fronte a una situazione emergenziale in cui il Comune, che è il responsabile dell'incuria del palazzo da cui sono stati sgomberate queste famiglie, è arrivato a proporre a tre giorni dalla scadenza della convenzione con gli hotel, per le famiglie dei piani alti che non potranno rientrare nelle case già in questa settimana, degli alloggi alternativi qui a Santa Rita. Però la proposta non prevedeva una formulazione completa, si parlava di una somma di una tantum di 800 euro per trasloco e allaccio dell'utente, quando sappiamo che i prezzi sono molto più alti. Quindi tutta una proposta che non si teneva in piedi, non rispecchiava le reali esigenze di queste famiglie, le reali condizioni di questa famiglia. Noi oggi dopo l'incontro siamo riusciti ad ottenere innanzitutto una proroga di una settimana per far permanere queste famiglie all'interno dei posti in cui si trovano adesso. E in secondo luogo la possibilità di valutare una proposta che ci aspettiamo sarà maggiormente esaustiva rispetto a quelle che sono le condizioni poste da queste famiglie per poter trovare una soluzione. All'inizio si parlava di case arredate in affitto, ora si parla di trittura, di riportare le cose dal palazzo che è, ricordiamo, ancora con le impalcature su cui si stanno facendo dei lavori, soprattutto nelle case in cui queste persone dovrebbero andare a prendere i mobili, le cucine e così via per poi trasferirsi in queste case che dobbiamo vedere in che condizioni sono, perché la condizione posta dal comune era una condizione prendere o lasciare. Noi finalmente oggi siamo riusciti ad affermare il fatto che si devono valutare tutti gli aspetti e anche le condizioni del posto in cui uno deve andare. Quindi diciamo la situazione ad oggi è che siamo riusciti a prendere tempo per ragionare maggiormente rispetto a quelle che sono le situazioni concrete di vita di queste persone, cioè che chi sta vivendo questo disagio non deve accollarsi anche la responsabilità di trovare una soluzione che sia quella che ha imposto il comune che è il responsabile delle condizioni che vivono oggi queste persone. Per questo siamo qui, adesso vediamo questi alloggi e lunedì alle ore 12 rincontreremo il comune e ci auguriamo, e sicuramente non ci smuoveremo fino a quando non saranno accontentate le nostre richieste, cioè che siano garantiti i diritti e delle condizioni essenziali per potersi spostare in un alloggio che sia sicuramente soddisfacente per tutte quelle che sono le condizioni di queste famiglie. Ringraziamo allora Marco Iasci dell'OSB, anche con Daniele Moretti sempre dell'OSB Abruzzo, ringraziamo gli inquilini, come avete sentito ci sarà una prossima riunione lunedì con il comune e dobbiamo dire che alcune famiglie potranno rientrare nella casa parcheggio in questione, cioè famiglie al piano terra e quella al piano superiore, però anche in quel caso loro chiedono che i lavori vengano fatti non solo per quanto riguarda il tetto, ma per la messa in sicurezza dell'abitazione in questione. Comunque qualcosa si sta muovendo e ci aggiorneremo naturalmente la prossima settimana con gli inquilini di via Garibaldi per vedere e soprattutto per capire cosa vorranno fare. Per il momento da Lanciano è tutto, vi restituisco la linea.